Combattere e contrastare il fenomeno del bullismo se ne è parlato questa mattina nell'aula magna dell'istituto scolastico Ettore Romagnoli di Gela nell'ambito di un incontro promosso dal dirigente Sandra Scicolone. Preziosa la presenza dello scrittore Enzo Russo, autore di 32 romanzi, alcuni dei quali lo hanno imposto come uno degli autori italiani di maggiore professionalità nel campo della narrativa di genere e un riconosciuto esperto di problemi legati alla mafia. La conferenza di oggi rientra tra le attività promosse da Russo con la sua associazione Io ho scelto. Il progetto che ho messo in piedi e che attualmente riguarda 27 scuole è quello di dire ai ragazzi che il problema del bullismo è vostro e lo dovete risolvere voi. Quindi noi tesseriamo i ragazzi che credono in questa iniziativa, classe per classe i ragazzi eleggono quello che io chiamo scherzosamente un onorevole, gli onorevoli tutti assieme formano il parlamentino della legalità, eleggono un presidente che ha accesso al preside, che ha accesso a me, che tiene in che raduna il parlamentino una volta al mese per fare il punto della situazione scuola per scuola. Nessuno è mai presente agli atti di bullismo, solo i ragazzi, non ci sono mai i bidelli, non ci sono i professori, non ci sono i genitori. Quindi solo loro, infatti io dico sempre ai ragazzi, non azzardatevi a iscrivervi a questa associazione se non siete pronti a testimoniare. I lavori sono stati moderati dalla professoressa Lalicata. Noi come comunità scolastica avvertiamo l'esigenza di combattere fenomeni come il bullismo, come il cyberbullismo, come la violenza, soprattutto se esercitata nei confronti delle donne. Quindi ecco perché per noi era importante oggi dare inizio in una data dopo tutto simbolica per altre ragioni, perché legata alla festa dell'8 marzo, ma comunque non lontana dallo spirito della nostra manifestazione, del nostro atteggiamento, volevamo proprio dare inizio così al mese che la Romagnoli dedica alla lotta contro il bullismo dentro e fuori la scuola.